Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto adattatori e convertitori Minadax Convertitore Fiscei e Ultra. Molto robusto grazie a lega di alluminio e titanio. Filettatura da 37 mm per attacco diretto. Trattamento multistrato. Compatibile con autofocus e infrarossi. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.